Io ho solo due domande, proprio alle persone che rappresentano la fede islamica. La prima, visto che è una religione di apertura, di amore, di cartellanza e d'altro, perché i vostri fratelli che scappano dalle guerre non vanno in Arabia Saudita e in Qatar? Prima domanda. Seconda domanda, è verissimo che questi paesi, dal mio punto di vista, canaglia, fanno affari con l'Occidente e bisogna fermarlo. Però voi siete disponibili a dire che i governi e quei paesi, Arabia Saudita e Qatar, sono paesi, canaglia e tutte le comunità islamiche che prendono soldi da questi paesi sono con i venti. Terza e ultima cosa. Prego. Siete talmente, ha detto prima l'imam di Catania, siamo talmente aperti che un uomo musulmano può sposare una cristiana. La vostra comunità è accettata, viceversa, che una donna musulmana sposi un cristiano? Questo vorrei domandare, perché l'integrazione, se voi nelle vostre comunità una donna che decide si innamora di un cristiano, non può sposarlo perché sarebbe rigettata dalla stessa comunità che appartiene, diventa un problema di integrazione. Quindi vi domando, se è possibile, secondo il nostro dettare. Allora, la nostra comunità è una comunità proprio indipendente, quindi ad esempio la nostra moschea, la nostra centro culturale, proprio viene costruita tramite la nostra raccolta della nostra... Io se lo condivide che Arabia Saudita e Qatar hanno governi e sono paesi canaglia? Ma questo, ma che centriamo noi? Le chiedo, condivide... Io cosa centro? Le chiedo se lo condivide? Io non sono politico, io sono religiosa. E vabbè, a tutti i cittadini, le chiedo, lei condivide che Qatar e Arabia Saudita sono paesi con governi canaglia e sono governi canaglia? Mi risponda sì, come qualsiasi cittadino di questo paese. Io non c'entro niente di le altre di questi appesi, io centro soltanto quello che credo sono... Quindi lei non lo sa. Ma che centro io? Ma che centro io?